Accogliendo con entusiasmo la notizia della prossima partecipazione di Luca Marin con la nazionale di nuota ai gioco olimpici di Rio, il gruppo azione sociale di Vittoria chiede al sindaco Muscati e al consigliere di riferimento Giuseppe Nicasto di poter avviare una trattativa con la regione siciliana, obiettivo tentare un recupero della piscina Nanino-Terranova in modo da ridare la possibilità alla città di riavere una struttura sportiva che possa educare al nuoto i giovani appassionati amanti di questa disciplina. Il sogno è quindi quello di rivedere in funzione l'impianto sportivo di Contada Marangio e possibilmente poter avere dei nuovi Luca Marin che diano lustro e fama alla città. Intanto rimarcano dal gruppo vittoriese che già motivo di orgoglio tra qualche settimana sedersi davanti alla televisione e applaudire, come tutti si auguro, le gesta del nuotatore vittoriese che proprio dalla piscina Epparina spiccò il volo verso mete più ambiziose, avendo avuto come istruttore maestri dapprima Maurizio Invincibile e poi Gio Sciti. Quindi la speranza è vedere riaprirsi quanto prima le porte della Nino Terranova, definita a suo tempo non a caso un gioiello dell'impiantistica sportiva del meridione d'Italia.